La bella Federica Pellegrini avrebbe pensato di recente adottato una bellissima tartaruga e poi l'avrebbe letteralmente liberata in mare. È una storia bella, le tuffine, quella di questa tartaruga che sarebbe stata adottata dalla bella nuototrice italiana Federica Pellegrini in occasione della giornata mondiale degli oceani. Infatti pensate ad adottare una delle tartarughe di un centro di recupero di tartarughe marine di Manfredonia, ci troviamo in Puglia e quindi dopo aver conosciuto la storia della tartaruga in questione Federica ha deciso di, letteralmente parlando, andarla ad adottare. Un atto importante e generoso di piano attruismo, Federica Pellegrini si dimostra una ragazza o meglio una donna sempre all'altezza della situazione e anche in questo caso ha compiuto un gesto davvero nobile di cuore. In questo modo si dà più dignità e soprattutto più serenità ad un animale bello come la tartaruga. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, questo video non vuole dare la parabosi di Federica Pellegrini, ma solo informare eventuali persone. Ciao a tutti!